È ricoverata in pregnosi riservata nell'ospedale Nostra Signora della Mercedella Nusei, Paola Piras, la donna di 50 anni in Tortoli, gravemente ferita nel corso della notte dall'ex compagno Masih Shahid, operario pakistano di 29 anni, che durante l'aggressione ha ucciso Mirko Farci, 19 anni, intervenuto per difendere la madre. La donna è stata raggiunta da una ventina di coltellate che le hanno leso organi vitali. Il difficile e lungo intervento chirurgico le ha salvato la vita, ma le sue condizioni rimangono critiche. Non ce l'ha fatta invece il figlio Mirko, intervenuto per salvare la madre. L'omicida, dopo il delito, è scappato facendo perdere le proprie tracce, ma è stato individuato in tarda mattinata nella periferia di Tortoli e arrestato dai carabinieri della compagnia di Nusei e dal reparto operativo del comando provinciale di Nuoro, che insieme alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza avevano dato vita ad un'imponente caccia all'uomo con l'utilizzo di due elicotteri. Al momento del trasferimento dell'uomo dalla caserma dei carabinieri verso la procura di Nusei, sono vissuti attimi di tensione con la folla che ha tentato di aggredirlo. Nell'arresta due carabinieri sono rimasti feriti. I militari, coordinati dalla procura della Repubblica di Nusei, stanno ricostruendo la dinamica dell'omicidio. Il 29enne, che era stato denunciato per stalking da Paola Piras e aveva ricevuto il divieto di avvicinarsi alla ex, si sarebbe introdotto con la forza nell'abitazione della donna in via Monsignor Virgilio, aggredendola e accoltellandola. Il figlio sarebbe intervenuto in difesa della mamma, avendo a sua volta colpito e ucciso. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Nusei. Per il giovane, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Il delitto ha sconvolto la comunità di Tortoli, che piange la morte di un giovane coraggioso ed è in ansia per la sorte della madre.